Scattata oggi ufficialmente la 54esima edizione del Vinitali di Verona, si torna all'interno del Verona Fiere a distanza di due anni, l'ultima volta era il 2019 e poi la pandemia. In un'edizione special lo scorso anno ha poi fatto da apripista quello che è veramente oggi l'inizio di una nuova era per il mondo enologico abruzzese. L'Abruzzo all'interno del padiglione 12 è presente all'evento con uno stand istituzionale e quasi 100 produttori al Vinitali, nell'area collettiva regionale quasi 1500 metri quadrati allestiti dai due consorsi, il consorzio di tutela Vinitali Abruzzo e quello delle colline Terramane, presente anche l'enoteca regionale con oltre 300 etichette in degustazione. Partiamo con questo Vinitali 2022, con un restare di tutta quella che può essere l'immagine che diamo come Abruzzo, abbiamo dato dal portale fuori anche internamente alcuni piccoli spazi di novità per dare il senso proprio del cambiamento che c'è in questo momento dovuto all'approvazione anche dei disciplinari che c'è stato un mesetto fa circa. E la partenza con il modello Abruzzo, così è stato definito dal tavolo nazionale, di una nuova opportunità che tutto il sistema enologico abruzzese mette in piedi per quelle che sono le sfide del futuro, con semplificazione, con coesione territoriale, un unico modello, il modello Abruzzo, dove l'Abruzzo è al centro di ogni ragionamento e poi ogni territorio esprime al meglio quelle che sono le valenze e le capacità dei propri vini. Per quello alle nostre spalle c'è scritto 2022 rivoluzione? Assolutamente sì, è proprio questo. Siamo con un'unica IGT regionale, quindi semplifichiamo molto e diamo il concetto proprio di Abruzzo, cioè il principio è c'è l'Abruzzo al centro e dentro c'è tutta la potenzialità che hanno i nostri vini. Presente anche il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che ha parlato dei 50 anni della Doc Trebbiano d'Abruzzo. Sì, dobbiamo ringraziare i pionieri di questo sogno che lei ha ricordato, Montepulciano è quest'anno Trebbiano che ci aiuta a farci conoscere nel mondo, è un vino che per noi è il più grande ambasciatore dell'Abruzzo nel mondo, è giusto festeggiarlo come si conviene ed è giustissimo ricordare e ringraziare chi ci ha permesso 50 anni dopo di aver fatto questa crescita così importante. In contemporanea a Vinitaly anche Sole Agri-Food, il Salone Internazionale dell'Agroalimentare di Qualità ed Enolitec, il Salone Internazionale delle Tecnologie per la Produzione di Vino, Olio e Birra.